Domenica 14 giugno Macerata torna al voto per scegliere il sindaco dei prossimi 5 anni. Al ballottaggio in programma dalle 7 alle 23 si contenderanno la poltrona di primo cittadino Romano Carancini, sindaco uscente che ha ottenuto il 39,93% dei consensi con la sua coalizione di centro-sinistra e Deborah Pantana, espressione del centro-destra, che ha raggiunto il 18% delle preferenze. Con il turno di ballottaggio tutto torna in discussione, innanzitutto perché si apre la possibilità di apparentamenti. Candidati sindaci e partiti esclusi al primo turno hanno tempo, fino a domenica 7 giugno, per stringere un accordo con una delle due coalizioni che andranno al ballottaggio. Carancini sembra intenzionato a non fare accordi con nessuno, mentre Pantana, per coprire il gap di voti che la separano dal suo contendente, sta cercando di trovare la spalla o le spalle ideali per poter fare un apparentamento. A tutti gli effetti comunque la campagna elettorale si è riaperta e i maceratesi torneranno al voto, anche quelli che al primo turno si sono espressi per altri partiti e candidati sindaci. Ci potrebbe essere un ulteriore calo nell'affluenza al voto e anche questo è un dato che potrebbe incidere sull'esito del voto finale.